Vediamo, aspetta, prova scena, vai. Quando? Adesso. Ciao, sono Cecilia Beltrami, siamo qua nella mia azienda, la parrocchiale, io dico sempre di essere nata in una damigiana, infatti è dall'88 che mi è in questa azienda, il vino è la mia passione e mi occupo di tutta una parte di comunicazione e di eventi, perché non vedo l'ora di far conoscere l'oltre papavese a tutti. Questa è la cella, adesso stiamo mettendo a passo tutti gli affinati nelle barri, perciò è sempre più casino, abbiamo tenuto i cartellini antichi delle mene per ricontarci sempre che ci sono state. E normalmente se togliete la mascherina dovrete sentire ancora un mene e un tubo di mela. Stavo facendo da poco un nuovo metodo classico che mio papà segue lui, fa tutta la parte di lavorazione sui lieviti da solo, perciò insomma si mette un po' un esperimento per andare oltre la produzione classica di tante tante bottiglie, ma godersi i piccoli piaceri di fare il vino proprio. Ecco il nostro sorcero, il metodo classico che prende il nome da soriasco, quindi dal nostro paese, essendo appunto un rosato sorcero. Qua ho voluto riprodurare tutte le bollicine in etichetta, è un pinot nero al 100%, è un Brut Nature, sta sui lieviti un anno e tutte le luciomantolo qua mi occupavano al mente. Eccoci, questa è la bocciola, sta versando questo chardonè che viene affinato nelle bottiglie rovere, in cui sta circa sei mesi. Abbiamo fatto due esperimenti, la prima volta otto mesi, la seconda sei, abbiamo preferito farvelo rimanere un pochino di meno, e poi sta circa un annetto in bottiglia. E allora vi aspetto tutti ragazzi, qua a soriasco, per assaggiare tutti i nostri vini. Ciao A presto A presto